Mozzarella Santa Lucia, creativa come Carlotta. Quella volta che a casa sua c'era un po' troppa musica, per la vicina. Allora, cos'è questa roba? Meraviglia! Ma con la mozzarella Santa Lucia, Carlotta si fece perdonare, perché è a tavola che si rivela la vera natura delle persone. Santa Lucia, lo spirito creativo di Galbani.